buongiornissimo siamo diretti questa mattina a badia calavena provincia di verona presso il marani motor park dove si svolgerà la ducati scrambler experience evento su invito ovviamente essendo cliente ducati sono stato invitato benissimo dove si proveranno scrambler sul circuito flat track quindi ci sarà a divertirsi la giornata non è bellissimo però guardando il perviso di meteo sono felicioso anche perché non ho l'antipioggia quindi deve per forza far bello però guardate che spettacolo i colli veronesi avvolti dalle nuvole e sopra il cielo azzurro bellissimo bellissimo anche il capannone qua davanti bellissimo grazie capannone siamo in mezzo della campagna con i vigneti una bella vista nel fondo vedo anche i monti innovati la zona crede sia il gruppo del carega se non sbaglio secondo me l'autunno è il periodo migliore per fare i giri in moto perché vedi dei colori bellissimi adesso ancora presto tipo fa un paio di settimane ci saranno tutti gli alberi i marroni giallini mi stiano già qualcuno però ancora presto vediamo cosa ci aspetta dai passato dai accelera andiamo in pole position bellissimo a a l'odo av Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.